La popolazione scolastica cala e le scuole sono a rischio. La legge di bilancio ha previsto una normativa sul dimensionamento scolastico che comporta un taglio di sedi e personale. A Pagani la problematica inizia ad essere particolarmente sentita ed è sotto osservazione da parte dell'amministrazione comunale. Sarà infatti accorpato a caso delle poche iscrizioni il plesso di via Mangioni che sarà trasferito nelle aule della scuola di via Flaucinola. Ora c'è preoccupazione anche per le altre scuole della città per dei tagli frutto di una serie di fattori su tutto il calo del tasso di natalità della popolazione che ha portato negli anni ad una progressiva riduzione del numero di studenti nelle scuole e che porterebbe di conseguenza alla riduzione del numero di istituti scolastici mediante soppressioni e accorpamenti tra enti diversi e spesso tra territori e comuni diversi. E purtroppo questo dato si rifletterà anche sulla riduzione degli organici del personale scolastico con terribili conseguenti per la stabilità del lavoro di docenti e ATA e per la qualità dell'istruzione. Da qui a qualche ora per grazie di Dio non succederà ancora nulla ci sono delle note ministeriali che dettano numeri riguardo al dimensionamento scolastico. Non abbiamo una situazione semplice però rispetto ai numeri che sono nella norma emanata abbiamo qualche difficoltà però stiamo lavorando in sinergia sia l'amministrazione con i dirigenti scolastici e con la provincia a far sì che le autonomie scolastiche attualmente esistenti sul nostro territorio restino tali. Ovviamente però aspettiamo sempre aggiornamenti per quanto riguarda il ministero perché anche la circolare ultima che è arrivata non è chiarissima ma noi certamente non ci facciamo trovare impreparati di fronte a tale situazione. Però ci stiamo confrontando e stiamo sicuramente attivando per qualsiasi tipo di iniziativa da intraprendere. Sempre in sinergia con il dirigente scolastico il professor Etrusio si è deciso di spostare, di trasferire la sezione della Mangioni utilizzando parte del plesso Flauscinola perché comunque c'erano gli spazi, ci sono gli spazi. Anche da tener conto che comunque il plesso Mangioni non è di proprietà del comune per cui ci porterebbe certamente anche a un risparmio. Anche il preside ha ritenuto opportuno perché comunque ci sono state delle difficoltà stradali, di parcheggio e poi anche purtroppo per le mancate iscrizioni e quindi il numero è sceso dei ragazzi e si possono tranquillamente trasferire a via Flauscinola. Però ci sono state delle iscrizioni, il Pittoni quest'anno veramente ha dato tantissimo per quanto riguarda la scuola alberghiere sia per quanto anche la sezione odontotecnica e noi cercheremo di mantenere la nostra autonomia. Saremo fermi su questa posizione e cerchiamo ovviamente di ottimizzare tutto quello che c'è da ottimizzare affinché le scuole nostre di Pagani restano le scuole nostre di Pagani. Le scuole medie e inferiori non corrono rischi di dimensionamento? Tutte le scuole, anche medie e inferiori. Però le ripeto, ci stiamo lavorando, adesso è tutto in embrione. Il tutto dovrebbe accadere per l'anno accademico 24-25, però noi già siamo al lavoro quest'anno per capire le dinamiche e come ci possiamo muovere. A giugno ci sarà anche un incontro alla Regione col Presidente De Luca, con la Fortino, insomma per valutare di Pagani.